Buonasera a tutti, sono Ivana Posti e vi do il benvenuto a Scrittori in Onda e do il benvenuto anche a Maria Teresa Vivino. Grazie. Ciao, buonasera. Buonasera Ivana. E noi siamo qua questa sera a presentare la tua ultima raccolta che si chiama Libertà. Però prima di parlare di libertà volevo chiederti questo, siccome chi scrive di solito scrive tanto. Allora raccontami che cosa hai scritto tu? Beh, innanzitutto partiamo da un presupposto. Ho iniziato a scrivere fin da bambina, quando con le figurine che mi avanzavano dalle raccolte, iniziavo ad attaccarle sui diari e inventavo delle storie, quindi ho iniziato con la prosa. A 15 anni, un po' influenzata anche magari dalla scuola, ma anche dagli autori locali che ho conosciuto, io sono di Bardonecchia, ho avuto l'occasione di immergermi nella bellezza dei versi. E lì così ho coltivato questa mia passione per la poesia, iniziando con una prima raccolta che è Poesie dal cuore, che ho pubblicato con il tipografo Melli. Da lì poi ho iniziato a partecipare ai concorsi letterari, per cui una cosa ha tirato l'altra, e ho pubblicato un romanzo breve nel cuore dell'Africa con Montedit, in seguito ad una premiazione, al premio Jacques Prevert. In seguito ho continuato, diciamo, a pubblicare di nuovo le poesie, Volo sulle note dell'anima, scritto a quattro mani con l'autore genovese Roberto Gennaro, per poi ritornare alla prosa con il risveglio, storia di animali, persone e sogni, scritto sempre a quattro mani con Lodovico Marchisio. Insomma ci siamo andati abbastanza da fare. Allora io vorrei far vedere tutte queste tue cose che hai scritto, ma in particolare mi piaceva parlare, anzi lo do a te così poi lo fai vedere un attimo, del tuo inizio, c'era una poesia scritta a mano, proprio con una calligrafia. Sì, la mia prima raccolta di poesie appunto è stata scritta a mano, ecco quello che posso dirti Ivana e che posso dire appunto a chi ci sta seguendo, agli amanti della scrittura, è che i primi approcci di solito sono quelli più spontanei, quindi c'è meno rivisitazione del verso, quindi si riprende meno in mano lo scritto e lo si modifica molto meno. Col tempo impari che a volte riprendere in mano i versi non è un modo, come dire, per renderli meno veri, ma tante volte anzi è per autenticare il messaggio cercando di scriverlo in modo più chiara possibile perché il contenuto possa essere compreso e arrivi al cuore. La mia prima poesia l'ho scritta il 4 gennaio del 2005 ed è raccolta appunto nella raccolta di poesie e poesie dal cuore ed è il mio grande sentimento. È una poesia d'amore e quindi ho iniziato proprio per trasmettere alla persona che allora amavo quello che provavo e così poi insomma sono andata avanti. Alzalo, fammi vedere, mi piace tantissimo questo fatto che sia scritto a mano, come lo scrivevi tu? Con la stilografica comprata a Siracusa durante una, come dire, un viaggio scolastico, una gita scolastica e mentre tanti andavano alla ricerca dei cannoli, quindi diciamo di tutto ciò che è tipico, io invece ero lì che cercavo una penna, forse sentivo questa esigenza di iniziare a scrivere e pubblicare qualcosa. A scrivere in fretta, assolutamente, era quello il momento. Ma a proposito di questo, di emozioni, no? Perché poi io sono particolarmente legata alle emozioni in generale perché credo che noi viviamo fondamentalmente di emozioni e quindi quando una persona riesce a trasmetterle attraverso la scrittura in qualche modo raggiunge degli obiettivi importanti, no? È l'ora di questo che mi dici, so che tu insomma di emozioni, eh? Sì, diciamo che io credo che, appunto io scrivo prosa e poesia, però devo dire che l'approccio che sento più mio è quello del verso, l'approccio poetico. Ed è proprio anche questo approccio poetico, grazie a una poesia di un autore contemporaneo, Gaetane Pizzuto di Torino, che mi sono ispirata, che mi ha ispirato, meglio la poesia che ha ispirato me, per scrivere la mia tesi di laurea. Niente popò di meno che ce l'abbiamo in braccio. Ce l'abbiamo in braccio. La poesia in realtà, cioè diciamo che la tesi è una tesi biblioteconomica, ma la poesia, che appunto è stata scritta da quest'autore Pizzuto, è buio negli occhi. Da questi versi dedicati ad una donna non vedente, ho iniziato, diciamo così, a domandarmi effettivamente che cosa provassero, quali fossero i gusti letterari dei non vedenti. E così è stato un crescendo di curiosità ed emozioni che mi hanno portato poi a scrivere la tesi di laurea, grazie anche al dottor Marco Giola, che è il docente e relatore che mi ha seguito, che è tra produzione e conservazione di documenti speciali, il libro di poesia, nelle trascrizioni in alfabeto Braille. Questa quindi è la tua ultima fatica e neanche è poco poco impegnativa, cioè nel senso voglio dire, deve essere stata una ricerca piuttosto intensa, no? Sì, mi ho impegnato diciamo da dicembre 2014 più o meno a quest'anno, diciamo circa aprile-maggio 2016. Quindi è andato tutto molto bene, mi hai detto, ma quello che mi piaceva dire di questo, giusto ancora un attimo, è proprio il percorso a cui mi accennavi, no? E' un attimo molto intenso anche per come forse, intanto per come è arrivato, ma poi per ciò che comunica, no? Mi dicevi proprio tutto il discorso emozionale che hai vissuto anche tu per potercelo raccontare. Sì. Per poter andare a fondo su questo. A me piace sempre una frase del piccolo principe che è l'essenziale invisibile agli occhi, no? Certo. E l'ho ritrovato in alcuni testi che parlano dei non vedenti, per la questione cognitiva anche, no? E trovo che sia molto interessante, ad esempio, una delle esperienze che ho fatto, diciamo sempre di ricerca per questa tesi di laurea, che è il dialogo nel buio. L'ho, diciamo, in percorso al buio di un'ora e un quarto che ho effettuato presso l'Istituto dei Ciechi di Milano, che mi ha permesso veramente, a livello emozionale, di scoprire un mondo che mi ha permesso anche di scrivere, di scrivere ancora, questa volta in prosa, ed è finito poi, come dire, andato a congluvare, non solo nella tesi, ma anche nel nuovo libro che sto, che sto, che sta per venire alla luce. Ecco, perché nel frattempo, mentre facevi la tesi, mentre studiavi, mentre facevi tutte le tue ricerche, che hai avuto anche il tempo per mettere nero su bianco qualcos'altro. Sì. E quando? Quando arriverà? Dovrebbe essere in uscita per settembre. Quindi a settembre noi avremo un nuovo nato, e di cui non sappiamo il nome. D'accordo. Allora, torniamo però a presentare Libertà. Sì. Libertà, raccontami in breve, breve, breve qualcosa. Allora, Libertà è una raccolta di poesie veramente abbastanza ampia. che ha percorso numerosi anni, dalla mia adolescenza, un pochino, diciamo, agli anni più vicini, al 2012. E devo dire che Libertà soprattutto parla di amore. E questo è il tema principale, ma non solo. E credo che quindi possa interessare, insomma, tutti gli amanti. Beh, quando parliamo di amore, secondo me, di sentimenti, sicuramente, tocchiamo la sfera di tutti, perché tutti i sentimenti ne abbiamo. Io volevo... Allora, tu hai diviso in questo libro in diverse fasi, le hai chiamate così. Io ho trovato molto, molto intenso l'ultima fase, che si chiama ricominciare. Soprattutto mi piace come l'hai iniziata, il tuo approccio, no? Colui che sarà capace di lasciarmi libera avrà il mio cuore, che è il massimo, comunque, secondo me, dell'amore che si possa esprimere, no? Che si possa dare. Sì, diciamo che nell'era un po' del consumismo, l'amore viene sempre visto un po' come un possesso. No, l'amore è proprio il contrario, ma l'amore in senso universale, non solo rivolto, come dire, l'amore passionale, ma anche l'amore per un amico, per un figlio, per un genitore. Da essere sempre basato sul principio della scelta, lo scegliersi. È il principio, secondo me, di ogni bellezza umana. Assolutamente sì. Noi avremmo dovuto leggere dei versi del tuo libro, ma il tempo è finito, perché vola. Ma se noi vogliamo leggere il tuo libro, dove lo troviamo? Allora, diciamo che su tutti gli store mondiali, IBS, Amazon, insomma, chi più ne ha più ne metta, è facile reperirlo. Si può anche prenotare direttamente del sito della OAC Editions, www.oacedizioni.it, tramite appunto il sito o i prenotabili, diciamo, presso le librerie. Perfetto. Libertà, poesie d'amore. Libertà, poesie d'amore, della OAC Edizioni. Niente, Maria Teresa Vivino, grazie. Grazie a te Ivana, grazie a tutti voi. E arrivederci a presto. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.